Salve a tutti, sabato 8 aprile 2017 ci sarà un bellissimo evento a Peribacco. Ci ritroveremo tutti quanti associati e anche non associati che si vorranno associare e degusteremo degli ottimi birri artigianali provenienti dal Piemonte e degli ottimi di chiaramento. Parleremo dell'associazione, degli eventi futuri e soprattutto dell'evento che si sfruggerà nel Piemonte e anche nella nostra barcode. Parleremo del bilancio e di come è andata quest'anno e più di meno e cosa anche possiamo migliorare sicuramente. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, non mancare. Ciao!